Dopo tre risultati utili si interrompe la serie della San Giovannese che cade a Venturina contro il Gavorrano, decide Nocciolini a meno di un quarto d'ora dal termine. La squadra è arrivata allo stadio con le macchine private dei giocatori, il più classico esempio di quello che sono le problematiche attuali. Sul campo invece Fraschetti sceglie il 4-4-2, quarta pazienza consecutiva tra gli undici per Di Franco, Bernini appare un miracolato con il recupero Lampo, davanti a fianco di Merini c'è Calderini con Pippi, ad oggi fermo per infortunio. Formazione tipo per i Maremmani che tra Fellini e Montevarchi schierano quattro ex del Valdarno. La prima nota è per i padroni di casa con l'angolo di De Gori e la deviazione aerea sul primo palo di Bettini, l'incornata è sul fondo. Più importante quanto accade poco prima della mezz'ora, cambio di gioco di Galbiati per l'inserimento di Menichetti che evita il fuorigioco e si presenta solo davanti a Vaccarecci optando per una prima intenzione che non gli garantisce però sufficiente precisione. Finale di frazione che ha visto la Sangio solo badare a difendersi, Bertino mette in mezzo da sinistra, Fioretti va in contrasto e a Bettini tocca un rigore in movimento spedito nel famoso impianto termale alle spalle dello stadio. Il primo sussulto azzurro giunge solo in apertura di riprese, quando Bernini da pallaferma tocca corto per Di Franco, l'esterno prende la mira ma Lanzano ha solo ordinare amministrazione. Ciò ha in fuori però coraggio e con Calderini dalla bandierina c'è l'anticipo su tutti da parte di Pencelli. Stavolta il portiere non potrebbe nulla ma i pali non vengono inquadrati. Magrini mette in campo Nocciolini che poco dopo scodella palla in aria. E' tempo di test match per il rugby e quindi nessuno sembra aver spiegato a Peluso che la porta è quella compresa tra i legni e non l'opposto. Ancora un assist per il neo entrato, il beneficiario Edegori che angola troppo il diagonale rasoterra. Dopo due passaggi l'esecuzione dello stesso Nocciolini è da manuale del calcio. Minuto 32, esterno destro a fil di montante su sfera vagante dal limite ed è il vantaggio dei padroni di casa. Il giovane macchia la prestazione facendosi espendere in zona Cesarini ma non accade nulla nei 5 minuti di recupero visto che anche il marzocco rimane in 10 per il rosso diretto a tabacco.